Buonasera, puntata speciale di Occhio al Sindaco dedicato al ballottaggio per eleggere il nuovo primo cittadino di Pietrasanta si vota domenica 14 giugno, nei nostri studi il primo intervistato è Massimo Mallegni Buonasera Buonasera a voi Massimo Mallegni sostenuto dalla lista Pietrasanta prima di tutto Allora un piccolissimo passo indietro per iniziare, torniamo a 7 giorni fa lei ha vinto il primo turno con circa 1400 voti di vantaggio sul suo avversario del ballottaggio su Rossano Forassiepi la domanda come si suol dire sorge spontanea il ballottaggio è solo una formalità a questo punto? No assolutamente i voti sono un po' meno 1300 e qualcosa eccetera no no assolutamente ma è la questione proprio della legge elettorale che intende riportare tutti gli elettori nuovamente alle urne e di conseguenza si riparte da zero ora diciamo che da 00 no perché coloro i quali hanno votato per me o per il mio avversario l'altra volta noi tutti abbiamo la speranza di riportarli al voto quindi diciamo così la scelta legata alla proposta politica del candidato c'è già stata dobbiamo adesso convincere tutti gli elettori a tornare a votare e a scegliere uno di noi perché è questo il passaggio quindi assolutamente non è niente di scontato io mi sto veramente impegnando molto per dire ai nostri concittadini che si ricomincia da capo e quindi il 14 di giugno è importante tornare a votare per confermare il loro voto che hanno già dato il 31 di maggio senta, sabato pomeriggio Berlusconi a Pietrasanta grande folla, grande successo poi però Forassiepila ha attaccato anche su questo e la domanda gliela voglio fare anch'io lei ha fatto la lista civica e non ha voluto partiti per queste elezioni poi però Berlusconi è venuto a Pietrasanta due volte allora partiti o non partiti? Forza Italia o non Forza Italia? Allora io l'ho già spiegato in diverse occasioni ma mi fa piacere la domanda la nostra non è una lista civica l'ho detto in mille lingue la nostra è una lista politica locale allargata a tutti parte dall'esperienza del centro-destra io sono iscritto a Forza Italia l'ho sempre detto parte dall'esperienza del centro-destra ma il centro-destra ha capito che era il momento di fare un passo indietro ha sentito Berlusconi parlare di Forza Italia sabato? no ha visto una bandiera di Forza Italia? no perché questo? non perché rinneghiamo una l'abbiamo vista nel servizio che abbiamo mandato almeno una sì vabbè ma su 3600 persone una bandiera ci sta mi sembra di aver visto una anche del PD che sventolava in fondo probabilmente della serie ci siamo anche noi voleva essere un sostegno probabilmente a me come candidato sindaco di coloro i quali del PD hanno deciso di votare magari per il candidato e dare consenso alla loro lista però voglio dire il concetto è questo io faccio venire a Pietrasanta intanto faccio venire i miei amici perché quelli che non conosco non li posso far venire i quali hanno offerto il loro sostegno io in tre ore in tre ore con la presenza di Silvio Berlusconi a Pietrasanta ho riportato anteprime di Mondadori nel centro storico con l'impegno formale di Marina Berlusconi con la quale io ho dialogato telefonicamente e mi ha detto stai tranquillo l'anno prossimo anteprime di Mondadori sarà di nuovo a Pietrasanta nel grande spolvero nella grande istituzionalità del 2010 quando tu hai firmato il contratto in tre ore abbiamo avuto una copertura nazionale di tutti i media tutti i telegiornali nazionali il vostro peraltro tutti i telegiornali locali la Toscana tutti i giornali più importanti hanno parlato di Pietrasanta ma quanto mi sarebbe costato questo spot l'altro aspetto importante io sono della serie porte aperte per chi porta e di conseguenza mi hanno detto che verrà Maria Elena Boschi io sarò in prima fila perché io sarò se sarò il sindaco di Pietrasanta io voglio che Matteo Renzi Maria Elena Boschi tutti i ministri del governo e siano a casa loro a Pietrasanta io andrò appena eletto sindaco da Matteo Renzi come fece lui quando andò ad Arcore da Silvio Berlusconi all'epoca presidente del Consiglio dei Ministri perché noi abbiamo bisogno di portare a Pietrasanta più denaro possibile più gente possibile eccetera eccetera quindi giovedì per esempio viene Matteo Salvini a distribuire i volantini al mercato e che sono diventato leghista se viene la Boschi e vado a trovare la Boschi sono diventato il PD non ho problemi se viene anche Vendola lo vado ad accogliere assolutamente io sono aperto a tutti fermiamoci qui ci spieghi in maniera molto sintetica queste due frasi questi due slogan Pietrasanta prima di tutto che è il nome della sua lista e adesso si riparte che è la frase che lei diceva che lei dice nel suo spot elettorale che cosa vogliono significare queste due frasi sono il collegamento tra la lista la proposta politica e quello che vogliamo fare a me personalmente le dico chiaramente di quello che fanno i partiti le discussioni le liti i casini vari che ci sono in giro non mi frega niente io ho un obiettivo solo programmatico e concreto Pietrasanta viene prima di tutto quindi io prima mi occupo di Pietrasanta mi occupo del territorio mi occupo di questa roba qua quando ho finito il mio progetto lo allargo parlo di comune unico ragiono sul territorio della Versilia si riparte si riparte per forza se lei guarda la curva dell'andamento economico del territorio di Pietrasanta è in discesa libera è dal 2011 che sta crollando l'unica cosa che è andata verso l'alto sono state le tasse prima città in Toscana con la tassazione ma stiamo scherzando 25 milioni di euro di tasse pagate all'anno negli ultimi 4 anni 100 milioni di euro quindi si riparte per forza perché abbassiamo le tasse togliamo i regolamenti che danno fastidio alle imprese consentiamo alle imprese di assumere perché nessuno parla in questa campagna elettorale di occupazione guardi che l'occupazione non è che si crea sotto il cavolo come quando si racconta ai bambini che sono nati dice dove si è andato sotto il cavolo no l'occupazione si rilancia soltanto dando ossigeno alle imprese i nostri artigiani muratori idraulici elettricisti eccetera che fanno ultimamente si grattavano del suo programma elettorale del suo programma di governo torniamo a parlare dopo le cito una frase che ha detto il suo avversario riferendosi a lei dopo il voto del primo turno ha detto che si tratta di scegliere tra una gestione oculata della città o riconsegnare la città a un modo di governare esclusivo elitario apparentemente socievole ma in realtà arrogante sbruffone e rischioso per la salute e per le tasche dei cittadini probabilmente parlava di un altro perché lo credo che si riferisse a me perché è stato talmente oculato che la prima cosa che ha fatto il mio avversario ha fatto fuori l'assessore al bilancio Ferrieri che era la regina del salvataggio della giunta Lombardi e del territorio comunale di Pietrasanta la campagna elettorale è stata caratterizzata dal buco di bilancio io l'ho spiegato in tutte le salse si vede che l'ha capito anche Forassiepi che aveva sbagliato e quindi che ti fa ti fa fuori subito l'assessore Ferrieri ammazza il sindaco Lombardi e quindi noi siamo per le cose sinceramente molto più semplici noi abbiamo la necessità io per esempio il mio avversario sinceramente queste cose in particolare sull'aspetto sbruffone eccetera purtroppo in questi ultimi tempi probabilmente colti dal nervosismo sono passati dai temi seri alle offese macchina del fango eccetera eccetera me lo sarei dovuto aspettare ma dobbiamo puntare non sulle offese reciproche sono disinteressato io non voglio la contrapposizione io peraltro sto pescando anche dal programma degli altri competitor che avevo al primo turno per esempio Moreno Fontana sulla questione di Strettoia per noi è un punto di eccellenza quindi Strettoia che già è previsto nello statuto comunale una percentuale di bilancio da assegnare cosa che in questi cinque anni non è stata fatta sarà al primo posto fra le frazioni sulle quali faremo investimenti quindi io lascio le offese e gli scatti di nervosismo agli altri però come le ripeto con piacere ho appreso che sul bilancio avevo ragione io sento un'altra questione che è venuta fuori negli ultimi giorni nelle ultime ore la questione che lei rischierebbe di essere sospeso per 12 mesi in caso di condanna al processo di appello per le cose per cui è stato condannato una cosa che è stata tirata fuori ancora una volta dal suo avversario che però dice ha parlato prima lui di giustizia e allora mi sono limitato a precisare le cose intanto è vera questa cosa? è nata prima l'uovo o la gallina no? come si dice allora anche qui siccome vedo che il mio amico Forasiepi sa leggere e copiare anche perché negli ultimi 4-5 giorni il mio programma dalla fondazione unica per la cultura al bilancio eccetera è apparso su qualche fogliettino che viene distribuito da Forasiepi se avesse avuto la pazienza di leggersi il parere proveritate del professor Merusi e del professor Toscano avrebbe capito che la famosa ormai legge Severino non si applica a Massimo Mallegni al di là che si trattava di un passo carrabile no? l'elemento del contendere ma insomma sono poco interessato alla questione il reato peraltro si è prescritto nel 2012 io non ho accettato la prescrizione eccetera non si applica perché dice la legge e basta prendere coscienza della figura del loro amichetto De Luca a Napoli che si applica soltanto quando la condanna interviene durante il mandato del sindaco per il quale all'interno dello stesso mandato il sindaco viene sospeso in certo niente quindi io vado a affrontare un nuovo mandato andrò a questo punto neanche il 30 giugno perché non sono state fatte le notifiche purtroppo e quindi si sposterà probabilmente a ottobre novembre o dicembre a discutere questa grande vicenda del passo carrabile perché si viene condannata anche per un passo carrabile e quindi rimane una roba così però io lo invito siccome anzi piuttosto chiedo scusa ma dov'è Forasiepi in che senso no dov'è perché io ero abituato ai confronti e invece oggi non c'è no abbiamo già detto che il confronto non si fa perché Forasiepi ha declinato lei l'ha accettato l'invito Forasiepi l'ha declinato ma chiederemo anche lui no ma voglio dire ma se fosse stato qua dopo la sua intervista ma se fosse stato qua avremmo magari come dire potuto chiarire molti aspetti perché il confronto per i cittadini è fondamentale così non è stato li chiariamo con due interviste separate bene adesso ci fermiamo per la pubblicità ma rimanete con noi perché ci sono molte altre domande per Massimo Mallegna tra poco di nuovo con Massimo Mallegni intervista a sette giorni dal voto buonasera di nuovo buonasera anche a lei di nuovo buonasera ai telespettatori lei prima accennava già al programma di governo programma elettorale che lei ovviamente vorrebbe si traducesse in programma di governo se non sbaglio i pilastri lei ha rilasciato diverse interviste in questi giorni sono il bilancio le imprese e l'ordine e il decoro di Pietrasanta è così? aggiungerei anche la sicurezza perché il bilancio è l'elemento fondamentale che noi riprenderemo subito e nel giro di 90 giorni chiudiamo la partita delle follie come dicevo prima hanno fatto fuori anche la Ferrieri quindi voglio dire siamo sulla strada giusta la seconda questione è legata alla sicurezza e la metto lì perché i cittadini devono essere sicuri a casa loro non è possibile c'è stata una recrudescenza dei reati in appartamento furti non c'è videosorveglianza a Pietrasanta la polizia municipale cessa il proprio servizio alle ore 20 della sera l'estate non c'è servizio notturno ma le pare normale abbiamo 30 agenti di polizia municipale i quali stanno 16 in ufficio e 14 per strada non abbiamo fatto un ragionamento serio come si fece noi in passato con i comuni della Versilia di una convenzione almeno con seravezza è forte dei marmi per avere almeno 80 agenti sul territorio e va fatto subito il decoro e la pulizia ma io ho fatto delle battute in campagna elettorale scomparsi i bambini a Pietrasanta le madri le avevano lasciati a giocare in un giardino pubblico le hanno ritrovati dopo che hanno tagliato l'erba perché erano finiti dentro ma è così ha iniziata questa grande pulizia finale che durava fino al 29 maggio io l'avevo detto era una roba straordinaria elettorale è cessata non si trova più uno spazzino non si trova più una spazzatrice non si trova più niente sul territorio comunale di Pietrasanta ci sono quelli che hanno fatto le strisce fino al 29 sono scomparsi io li ho chiamati mi hanno detto era soltanto per l'ultima settimana della campagna elettorale se volete faccio nomi e cognomi e come sempre ho documenti perché non voglio sbagliare e quindi l'ordine e la pulizia sono fondamentali bisogna offrire un biglietto da visita la promozione turistica parte ovviamente di lì e poi l'aspetto secondo me fondamentale come dicevo prima sono le tasse dobbiamo calare le tasse allora l'equazione meno tasse meno tasse meno tasse è un'equazione fondamentale meno tasse alle imprese così possono assumere meno tasse alle famiglie così possono ritornare a fare investimenti a spendere eccetera meno tasse in generale per il sistema nazionale per far ripartire il sistema economico perché anche sull'aliquota del lavoro l'IRPEF il comune di Pietrasanta è campione per il massimo applicato sulle buste paga ma è normale una roba del genere ma stiamo scherzando quindi noi avremo da tirar la cinghia quattro mesi ma una volta calate le tasse riparte l'economia ma non c'è dubbio è un'equazione che Reagan aveva applicato anni fa io sono a Pietrasanta cerco di fare qualcosa di più piccolino ma la farò senti lei la sua squadra ce l'ha già pronta? la mia squadra veramente ormai ha preso la muffa perché è lì da due mesi allora hai partito troppo presto no non sono partito troppo presto sono una persona seria perché io ho scritto sul programma questo è il mio programma fronte retro e la e quando l'ho editato e quindi un mese e mezzo fa la giunta c'era già con nomi cognomi deleghe deleghe con tutte le deleghe presenti peraltro mi hanno detto che non c'è la delega alla cultura nella presentazione della lista del mio competitor se lo saranno dimenticati non c'è neanche nel programma sinceramente non l'ho trovata questo lo chiederemo anche a noi non lo trovo e poi c'è un altro aspetto della giunta che secondo me è fondamentale è quello che questi signori qua non hanno una tessera di partito in tasca tanto per tornare al ragionamento che facevamo prima non hanno una tessera di partito in tasca senta vogliamo fare rapidamente i nomi di questi signori sì allora questi nomi sono Cinzia Crivelli la dottoressa Cinzia Crivelli che si occuperà del bilancio che è una professionista commercialista e si occuperà del bilancio e seguirà anche le finanze e i tributi poi c'è il vice sindaco Daniele Mazzoni avvocato dirigente di banca e anche imprenditore nonché presidente del consorzio dei balneari della Versilia che si occuperà di urbanistica e di edilizia poi c'è Simone Tartarini già presidente delle imprese produttive dell'area artigianale del Portone che secondo lei che assessorato prenderà alle attività produttive ovviamente e lavori pubblici peraltro abita a Strettoia quindi avremo l'assessore ai lavori pubblici a Strettoia poi c'è Lora Santini la famosa attrice delle tradizioni popolari del carnevale eccetera eccetera operatrice socio-sanitaria che si occuperà del sociale e delle tradizioni popolari e poi c'è Andrea Cosci già presidente di squadra di calcio eccetera c'è un imprenditore c'è una piccola attività commerciale che si occuperà dello sport e dell'associazionismo il sindaco terrà la cultura il turismo e la protezione civile a battuta dico siccome mi hanno visto per gli eventi del 5 marzo girare con la panda la protezione civile almeno così sono a posto perché tenendomi io la protezione civile ho risolto anche questo problema qua domandina se il prefetto la chiama anzi la prefetto Giovanna Cagliostro lei è sindaco da pochi giorni la chiama e le dice guarda ci sono 30 immigrati che bisogna accogliere subito a Pietrasanta lei deve fare il suo dovere lei me le deve accogliere questi immigrati lei che cosa risponde? io gli dico siccome c'è un appartamento da 320 metri quadri assegnato al prefetto se li metta a casa sua con il dovuto rispetto eccellenza perché a Pietrasanta abbiamo già dato noi abbiamo due immobili occupati abusivamente da immigrati che sono uno l'hotel Candia alle Focette e l'altro l'hotel Tirreno allora intanto io credo che la prima cosa che farà a Mallegni li farà sgomberare vedi guardi io sono per l'accoglienza sono per dare una mano a chi soffre sono perché il territorio sia sempre aperto alle necessità di chi ha meno con la mia amministrazione siamo passati da 350 mila euro di bilancio nel 2000 sul sociale a 2 milioni e 4 oggi siamo alla metà io però devo fare una cosa prima degli altri di aiutare gli altri prima devo aiutare i miei cittadini di Pietrasanta noi abbiamo 250 famiglie ridotte alla fame abbiamo più di mille famiglie eseguite dal servizio sociale che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena non c'è lavoro non c'è abitazioni io ho grande rispetto per gli altri ma prima di tutto io aiuto i cittadini di Pietrasanta prima di tutto Pietrasanta prima di tutto cittadini di Pietrasanta prima di tutto territorio di Pietrasanta prima di tutto vede che torna lo slogan e di conseguenza se al di là della battuta che gli dico di mettersi a casa sua che comunque non si preoccupi voi mi conoscete lo farò ci sono tanti spazi liberi la provincia non sta per chiudere ma mettetele a dormire tutti a Lucca perché non ve le tenete a Lucca che ci stanno anche bene così hanno anche i servizi a portata di mano poi la provincia tutto insomma credo che sia un fatto importante poi sono lì vicino alla prefettura così li controllano anche meglio facciamo un giochino allora dopo la domandina io le faccio tre nomi di personaggi politici e lei mi dice se le piacerebbe che collaborassero con lei nell'amministrazione di Pietrasanta così è anche un modo per dare qualche riferimento anche ai nostri telespettatori naturalmente Matteo Renzi naturalmente sì il presidente del consiglio sarà il mio primo interlocutore la prima cosa che faccio gliel'ho detto io monto in macchina e vado a Roma e chiedo l'appuntamento anzi chiedo l'appuntamento e vado a Roma anzi vado a Roma e suono il campanello va bene Matteo Salvini Matteo Salvini è un soggetto importante va come dire arginato un attimino perché ci sono alcuni passaggi del programma della Lega che mi convincono poco io per esempio il bombardamento ai Barconi non lo farei mai ma convincerei i capi di Stato che sono dall'altra parte con argomenti importanti e l'Italia ne ha molti a creare una struttura di accoglienza là per coloro i quali vengono magari dal Senegal dal Camerun eccetera il problema è la politica è la geopolitica europea e internazionale che sta compromettendo questa roba e l'Italia non ha le strutture nella moral sueso nella capacità importante di arginarle Beppe Grillo Beppe Grillo lo assoldo alla Versiliana perché secondo me come comico è eccezionale allora le rifaccio anche la domanda politicamente scorretta l'ho già fatta nel confronto come ai suoi colleghi candidati perché Forassiepi sarebbe meglio che non diventasse sindaco no 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 io le dico perché Mallegni è bene che diventi sindaco perché Forassiepi è meglio che non diventi sindaco lo sanno i cittadini di Pietrasanta ora serve mica ripetere le stesse cose Mallegni è una persona che vive del suo lavoro vive del suo lavoro io non vivo di politica non non mi occupo non faccio il libro professionista e quindi sono anche libero insomma di far l'amministratore senza problemi senza dover pensare di progettare da altre parti perché io faccio l'albergatore a Pietrasanta ho in mente un programma chiaro so come realizzarlo ho scritto nel programma i tempi nei quali voglio realizzarlo e di conseguenza i cittadini hanno soltanto il dovere e spero il piacere di andare il 14 giugno a votare per me ultime due domande anzi ultime due opportunità per parlare il suo sogno nel cassetto per Pietrasanta la cosa che lei desidera fortemente realizzare che lascia un segno del suo mandato se verrà rieletto sindaco della sua città io voglio arrivare al comune unico della Versilia e Pietrasanta dovrà essere l'elemento cardine di questo progetto quando parla della Versilia ci mette dentro anche Viareggio? per il momento ci metto dentro la Versilia la Versilia non è equivocabile come nome la Versilia è quella terra bagnata dal fiume che porta lo stesso nome quindi Stazzema Seravezza Forte dei Marmi e Pietrasanta perché cosa c'è legato alla questione del comune unico? le tasse ovviamente e i costi perché io invece di avere quattro sindaci ce n'ho tre invece di avere quattro segretari ce n'ho uno invece di avere quattro segretari generali ce n'ho uno invece di avere quattro comandanti ce n'ho uno invece di avere quattro dirigenti all'urbanistica ce n'ho uno e di conseguenza la strada anche la strada per la riduzione rapida della pressione fiscale è quella della riduzione della spesa pubblica le do un minuto di tempo poco più poco meno per parlare direttamente in quella telecamera per parlare con gli elettori di Pietrasanta e fare l'ultimo appello prima del voto di domenica prossima la ringrazio di questa opportunità noi abbiamo presentato la lista Pietrasanta prima di tutto abbiamo fatto la scelta di lasciare all'esterno i partiti abbiamo allargato alla società civile alle associazioni a tutti coloro i quali avevano l'interesse importante perché di interesse si parla di ripartire abbiamo detto si riparte con Massimo Mallegni e la sua squadra nota già da due mesi e non realizzata all'ultimo minuto che non ha tessere di partito in tasca è pronta a lavorare per voi per ridurre le tasse darvi sicurezza nelle vostre abitazioni pulire il territorio rilanciare la cultura puntare sulla promozione turistica e avere una visibilità nazionale continua e costante che garantisca una cosa a me cara il mio sogno nel cassetto oltre a quello che ho detto prima è l'occupazione io voglio realizzare un progetto disoccupazione zero che nel comune di Pietrasanta è possibile è una delle poche realtà delle perle nazionali insieme a Capri insieme a Cortina insieme appunto a Forte dei Marmi e Pietrasanta per arrivare a garantire un lavoro di 12 mesi all'anno a tutte le strutture ricettive ai ristoranti ai bar eccetera eccetera e garantire ai giovani in particolare e anche ai meno giovani lavoro tempo scaduto grazie a Massimo Mallegni ricordo che si vota domenica 14 giugno solo domenica 14 giugno dalle 7 alle 23 grazie grazie a voi salutatemi Forassiepi se lo vedete io ho qualche giorno che non lo vedo e doveva concludere con la battuta grazie e adesso la pubblicità e poi Rossano Forassiepi grazie a tutti